Domani primo giorno di targhe alterne a Pescara e già la città è spaccata tra chi è favorevole e chi pensa che la decisione graverà solo su esercenti e cittadini. Il centrodestra chiede un consiglio comunale straordinario per mettere al voto l'ordinanza promulgata da sindaco e vice sindaco, ricordando che il fenomeno dello smog non è più attribuibile solo ai mezzi di trasporto. Penso che il consiglio comunale straordinario sia una cosa doverosa da fare per cercare di sensibilizzare ancora di più il sindaco e il vice sindaco invece che in maniera testarda continuano ad andare avanti e a promuovere questo provvedimento che ha visto la politica contraria in maniera trasversale, centrodestra e centrosinistra, ha visto le associazioni di categoria mostrarsi contrariamente contrarie, abbiamo visto che l'Istituto Nazionale di Sanità ha detto che il veicolo delle targhe alterne è uno strumento che non ha nessun tipo di presa sulla risoluzione del problema, peraltro siamo in un momento di saldi, quindi un momento importante per il commercio cittadino e quindi riteniamo che questa ordinanza vada a vessare e vada a ostacolare fortemente il periodo dei saldi, quindi il periodo per i commercianti più proficuo. Tra le iniziative suggerite dal centrodestra c'è quella sulla regolamentazione degli edifici privati, sembra infatti che il 60% delle emissioni nocive provenga proprio dall'utilizzo dei riscaldamenti. Noi sappiamo che i dati più importanti dello smog arrivano non dallo smog proveniente dalle auto, bensì quello derivante dall'inquinamento domestico, circa il 60%, quindi parliamo delle stufe, del riscaldamento troppo elevato, dei pallet che vengono usati, quindi si può fare tanto, ma in ogni caso non si può fare all'ultimo momento, quando ormai la situazione è difficile, quindi mette in atto ordinanze che sono tardive e dannose per la città e per i pescaresi. Grazie.